tragedia in montagna escursionista muore precipitando in un dirupo maxi rissa di marotta ora le forze dell'ordine reclamano rinforzi green pass per ferragosto in tanti ai tamponi gratuiti organizzati dal comune roff 2021 stasera si alza il sipario con moise et faraon la buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre questa è rossini news il nostro telegiornale di rossini tv che in questo lunedì 9 agosto apriamo con diverse notizie di cronaca a cominciare da una escursione domenicale finita in tragedia per un ragazzo di 31 anni alessandro oliva nato a fossombrone residente a rosciano di fano è morto attorno alle 13 30 di ieri precipitando nel vuoto di una parete rocciosa per circa 80 metri un dramma che si è consumato nell'entroterra anconetano in particolare al foro degli occhialoni all'interno del parco gola della rossa sul monte fra sassi oliva si trovava in questa escursione con altri cinque amici residenti in provincia di pesaro quando all'uscita di un sentiero è scivolato cadendo inesorabilmente nel vuoto scioccato il gruppo di giovani amici che era senza imbraghi o attrezzature adatte alla pericolosità del tracciato ragazzi che hanno lanciato poi l'SOS alla centrale operativa 112 sul posto il 118 ha anche inviato due squadre del soccorso alpino e speleologico della stazione di ancona e contestualmente l'elisoccorso i tecnici una volta giunti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza i compagni del malcapitato alessandro che sono stati successivamente verricellati il corpo del giovane è stato poi avvistato da una coppia di climbers nei pressi della falesia sottostante ed è stato un weekend di sangue e di tensione a marotta dopo che all'esterno del locale miu disco dinner si è verificata all'alba di sabato una maxi rissa con un accoltellamento e una aggressione a due carabinieri ora da parte di questura e prefettura si fa più insistente la richiesta di riforsi nell'organico delle forze dell'ordine si è tenuta questo pomeriggio nel tribunale di pesero l'udienza di convalida dei quattro arresti maturati alle sei di mattina di sabato a marotta non lontano dal locale miu disco dinner un'alba di sangue di tensione dove si è consumata una maxi rissa fra decine di persone c'è stato un accoltellamento e c'è stata una plateale aggressione a due carabinieri intervenuti in numero e con attrezzature non adeguate ad arginare una folla fuori controllo un parapiglia ampiamente documentato da una serie di video di smartphone postati in rete che hanno fatto il giro d'italia provocando sdegno trasversale per l'accaduto ed evidenziando le criticità di carenze d'organico delle personale delle forze dell'ordine fra i quattro arrestati figurano un 25enne albanese residente nell'anconetano accusato di tentato omicidio gli altri tre fermati sono accusati di rissa resistenza lesioni e danneggiamenti all'auto dei carabinieri si tratta di un altro 25enne albanese di un 33enne dominicano residente a jesi e di un 23enne senegalese residente a tolentino la rissa è stata presumibilmente generata da una questione di debiti di droga e ad essere accoltellato all'addome è stato un senegalese tuttora ricoverato in ospedale l'accoltellamento è arrivato in mezzo ad una folla esagitata dai fumi dell'alcol all'uscita di un mio disco dinner che il questore di peso urbino michele todisco e il prefetto tommaso ricciardi hanno chiuso per 30 giorni una discoteca travestita da ristorante con musica che aveva già ricevuto due provvedimenti di chiusura per altre violazioni alle normative anti covid al di là della rissa fatto scalpore la lotta impari che si sono trovati ad affrontare i due carabinieri di fano sui quali in questi giorni sono piovuti attestati di solidarietà nonché la denuncia dei sindacati di polizia su una carenza d'organico che viene rimarcata da anni diciamo che non è un profeta in patria noi sono anni che lo denunciamo a volte ci ascoltano a volte no ci danno la classica pacca sulla spalla qualche formazione politica di cittura millanta a giugno che sono felici perché sono arrivati i rinforzi poi di questi rinforzi non se ne vede traccia dal te che anche questo oggi in un'intervista riporta il fatto che non è arrivato nessuno e questa è la situazione purtroppo la nostra solidarietà va ai due colleghi feriti perché sono stati molto professionali e vanno veramente elogiati perché se fosse fosse se fossero stati travolti dalla paura e non esserlo oggi parleremo di ben altro però è inaccettabile come ho scritto io nel mio comunicato che sia siamo mandati come carne da macello questo è inaccettabile in una provincia come tesoro urbino che pian piano si sta svuotando vuotando con i pensionamenti senza un turno adeguato purtroppo le assunzioni sono scelte politiche nazionali e noi non possiamo andare avanti così noi l'avevamo detto avevamo portato in calcoli dati statistici alla mano di cosa poterà succedere ma sono dieci anni che non lo denunciamo siamo arrivati a questo punto credo che siamo arrivati al culmine e onestamente mi dispiace dirlo ai cittadini può solo peggiorare ancora cronaca perché è stato un weekend di controlli intensificati sul territorio da parte della guardia di finanza a cominciare dal porto di pesaro dove sono stati setacciati con l'ausilio di unità cinofile i 204 passeggeri appena sbarcati dal traghetto di linea proveniente dalla croazia altre operazioni in diversi esercizi commerciali di fano monte porzio e cartoceto dove la guardia di finanza effettuato controlli in materia di contraffazione che hanno portato a sequestrare 4.600 prodotti fra abbigliamento prodotti per la casa accessori moda materiale per ferramenta idraulica prodotti tutti non conformi alla normativa in materia in materia di sicurezza e dunque potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e sono tanti purtroppo gli incendi in questa torrida estate italiana roghi che questo weekend si sono verificati anche nella nostra provincia è stata una domenica infernale per i vigili del fuoco della provincia di pesaro urbino chiamati a domare per 15 ore due fronti di incendio maturati in zone boschive del nostro entroterra già perché in una estate italiana che sta diventando tristemente segnata dalle immagini delle terre arsi in sardegna sicilia e in importanti fette del meridione ora anche le marche non vengono risparmiate dalle fiamme il primo e più importante rogo divampato nella mezzanotte fra sabato e domenica nel territorio di monte fagiolo fra i comuni di monte cerignone e macerata feltria circa 15 ettari di bosco sono stati distrutti dalle fiamme chiamando ad un lavoro in mane i vigili del fuoco di macerata feltria urbino e pesaro che hanno chiesto anche il supporto di canader alzatesi in volo all'alba da ancona canader che poi dovuto intervenire anche su un secondo rogo divampato poco dopo le 9 di mattina sulle cesane nel territorio di isola del piano operazioni di spegnimento in questo caso rese più agevole dalla luce del giorno ma che hanno comunque visto altri 4 ettari di macchia andare in cenere sono in corso gli aggiornamenti per capire quali siano stati gli eventi scatenanti questi due roghi che però non hanno danneggiato abitazioni ed ora il nostro consueto spazio dedicato ai dati sui contagi da covi 19 nella regione marche che come in ogni inizio settimana mostrano una ridotta cifra di tamponi processati per quel che riguarda il weekend appena trascorso sono infatti 46 nuovi casi di contagio in regione su 737 tamponi effettuati metà di questi casi cioè 23 sono relativi alla provincia di pesaro urbino la percentuale di tamponi positivi al contagio è al 13,9 per cento mentre il tasso di incidenza accumulativo ogni 100 mila abitanti sale a 77,79 i ricoverati nelle marche sono 55 di cui sei in terapia intensiva e da proposito di tamponi l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini ha comunicato oggi l'accordo che ratifica il prezzo calmirato sui tamponi in farmacia tamponi che fino al 30 settembre verranno dunque pagati 15 euro anziché i 18 che venivano pagati attualmente intanto sempre a proposito di tamponi è partita oggi la prima di quattro mattinate che le comune dedica in questa settimana ai tamponi gratuiti in vista degli eventi di ferragosto a cominciare dalla notte delle candele eventi che richiedono il green pass dopo i 18 mila tamponi che hanno caratterizzato gli ultimi mesi del periodo scolastico tamponi offerti dal comune di pesaro agli studenti al personale scolastico di scuole medie superiori i tamponi tornano a fare capolino all'esterno delle strutture scolastiche siamo oggi al campus in una procedura nuova proposta dal comune di pesaro che per quattro mattine dalle 9 alle 13 oggi lunedì domani martedì ma anche il 13 il 14 agosto propone tamponi gratuiti a tutte le persone che vorranno sottoporsi a questo test questo perché a quattro giorni dall'introduzione del green pass obbligatorio in determinate strutture c'è questa possibilità in vista dell'evento delle notte delle candele e in vista anche del ferragosto di sottoporsi appunto al tampone e dunque avere il green pass necessario per quelli che sono gli eventi che richiedono appunto la carta verde una grande partecipazione sopra ogni aspettativa veramente stamattina c'erano tantissime persone in file tantissimi giovani tanti ragazzi tante ragazze accompagnate dai genitori questa iniziativa non vuole limitare la partecipazione alle iniziative anzi vuole far sì che si partecipi alle iniziative in modo diciamo sicuro e quindi per la salute di se stessi per la salute degli altri centinaia di pesaresi dunque in fila la prima delle quattro giornate di tamponi più della metà dei quali davvero giovanissimi alcuni ritardatari hanno anche dovuto rimandare il test per le file protrattesi oltre l'orario delle 13 e per l'esaurimento dei moduli da compilare ad orchestrare la macchina organizzativa volontari di aile onlus gulliver e protezione civile non solo tamponi al campus ma anche vaccini in camper l'unità mobile dell'asur sarà infatti presente alla notte delle candele di pesaro domani per vaccinare con pfizer moderna e johnson e johnson chi vorrà sottoporsi all'inoculazione anti covid dalle ore 18 alle ore 22 si ringrazio l'asur l'area vasta 1 per questa grande collaborazione che ha voluto dare all'iniziativa delle candele appunto non solo i tamponi domani mattina ricordo dalle 9 alle 13 ci sarà di nuovo la possibilità di effettuare i tamponi qui al campus colastico non che il 13 e il 14 agosto ma domani pomeriggio alla palla di pomodoro dalle 18 alle 22 ci sarà anche il camper vaccinale messo a disposizione dall'asur dall'area vasta 1 e ringrazio appunto il distretto di pesaro e l'area di prevenzione tutti coloro che hanno voluto sostenere diciamo questo momento anche importante per la nostra città e dunque questo servizio abbiamo citato la notte delle candele che domani sarà anche abbellita dall'opera di street art dell'artista antonio cammarano in arte cubo liquido un'opera da guines dei primati in quanto si tratta dell'opera 3d più grande d'italia che sarà allestita per l'occasione alla palla di pomodoro un lavoro che è stato presentato oggi pomeriggio ma che verrà completato in serata prima del taglio del nastro che verrà appunto domani sera in occasione della notte delle candele un'opera che rappresenta un omaggio al moise et fara on spettacolo che questa sera inaugurerà la 42esima edizione delle rossini opera festival non stanno però mancando le critiche all'allestimento della notte delle candele ad esempio dal coordinamento pesarese di fratelli d'italia secondo il quale l'ordinanza comunale di matteo ricci imporrebbe ai gestori dei pubblici esercizi sulle spiagge e gestori degli stabilimenti balneari che non aderiscono alla manifestazione di sospendere la propria attività in concomitanza allo svolgimento della notte delle candele attraverso un comunicato fratelli d'italia definisce questo come un atto di imperio preoccupante da parte del sindaco domandandosi con quali poteri il primo cittadino possa determinare questo diritto al lavoro critiche anche dalla conf commercio marche nord per la mancata concertazione dell'ordinanza con le associazioni di categoria attraverso un comunicato conf commercio scrive come se interpellata avrebbe detto no alle limitazioni e scrive non crediamo che chi non partecipa ad una manifestazione debba essere limitato come se fosse un criminale e sabato mattina nella galleria dell'ipercoppile coordinamento pesarese di fratelli d'italia ha organizzato una raccolta di firme incentrata ad ottenere l'intitolazione di una via di una piazza o di un parco alla memoria di norma cossetto una raccolta firme che continuerà anche in settimana presso la sede di fratelli d'italia di pesaro penso che sia giusto e ribadire visto anche che c'è una comunità di profughi estriani di figli nipoti nella nostra città sia giusto intitolare a questa giovane patriota che per rimanere italiana è stata uccisa in maniera veramente barbara violentata asseviziata trucidata poi buttata nelle foibe e credo che sia giusto intitolarle un luogo pubblico significativo nella nostra città perché queste cose non avvengano più mi sembra mi sembra giusto ricordare anche nella nostra città così come è stato fatto in tantissime città d'italia e sottolineo di ogni colore politico perché lo sottolineo perché in tutta onestà le motivazioni con le quali è stata bocciata la mia mozione soprattutto da parte di alcuni consiglieri le trovo del tutto fuori luogo e anche offensive nei confronti della memoria di questa ragazza e soprattutto non soprattutto e anche nei confronti dei presidenti della repubblica carlos degli ociampi che l'ha insignita di medaglia d'oro come fulgido esempio di patriotismo e poi anche di mattarella che ribadito che la tragedia giuliano dal mata non deve essere scordata perché a memento di delle generazioni future da parte del pd una diciamo ci sono state anche da parte del consigliere murgia una cosa veramente stranissima quello che ha risposto veramente fuori luogo e quindi come da dal nostro comunicato e quello che ha detto il consigliere comunale daniele malandrino abbiamo deciso di iniziare questa raccolta firme per sollecitare per promuovere presso la popolazione una raccolta di firme che possa portare una nuova discussione in consiglio comunale sull'intitolazione di una via di una piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico a norma corsetto una cosa che noi riteniamo molto molto importante che una città come peso non si può permettere di non avere e soprattutto una diciamo una cosa importante certificata anche dal presidente della repubblica ciampi che gli ha dato un'onoreficenza molto importante e poco fa nel nostro tg vi abbiamo dunque mostrato un'opera di street art alla palla di pomodoro dedicata alla rappresentazione moise et faraon che questa sera alza il sipario sulla 42esima edizione del roff nel prossimo servizio vi illustriamo il programma del festival si alza il sipario sul 42esimo rossini opera festival che in questa serata di lunedì 9 agosto comincia all'insegna di un perfetto incrocio fra novità e tradizione la novità è condensata dall'opera moise et faraon che è una delle quattro nuove produzioni in cartellone la tradizione è sintetizzata dalla regia le scene e costumi del 91enne pierluigi pizzi infaticabile protagonista di quasi quattro decenni del festival rossignano che si mette in gioco con una nuova scommessa esordendo la vitrifrigo arena con giacomo sagripatti sul podio dell'orchestra sinfonica nazionale della rai e del coro del teatro ventidio basso un moise et faraon già applaudito venerdì nell'anteprima della prova generale è il debutto di un roff con tanti spettacoli ben 25 e pochi spettatori ammessi a goderseli in un festival all'insegna dell'obbligo di green pass le normative anti covid attuali ammettono infatti poco meno di 500 spettatori alla vitrifigo arena e poco meno di 200 al teatro rossini teatro che debutterà martedì 10 agosto con la seconda nuova produzione il signor bruschino in uno spettacolo ideato da barbe d'ussè tre giorni di nuove produzioni completate da un altro grande protagonista del roff come davide livermore che mercoledì alla vitrifigo arena porta in scena elisabetta regina d'inghilterra alla vitrifigo arena anche lo stab at matter ultima delle quattro nuove produzioni mentre il teatro rossini ospiterà ben otto appuntamenti concertistici oltre al viaggio a rems realizzato dagli allievi della trentatresima accademia rossiniana alberto zedda in un festival dedicato alla memoria di gram vick quello del 22 agosto sarà invece un finale col botto per la prima volta nella storia il roff ospiterà il presidente della repubblica con sergio mattarella che sarà infatti in piazza del popolo ad assistere al galà rossini che celebrerà il 25esimo anniversario del debutto peserese di juan diego flores le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono invece allo spettacolo suerte realizzato nell'ambito della terza edizione di stupor circus che nelle ultime quattro serate ha aglietato il pubblico peserese con lo show di circo contemporaneo portato dalla compagnia circo el grito nel suggestivo scenario degli orti giuli ora qualche giorno di pausa dopodiché stupor circus tornerà agli orti giuli dal 18 al 22 di agosto e dopo la performance di pesero della settimana scorsa torna fano anche il san costanto show con l'esilarante spettacolo comico sapori di sale grosso è uno spettacolo che in scena domani martedì 10 agosto alle 21 e 15 nell'anfiteatro rastat di fano e concludiamo questa nostra edizione del telegiornale con lo sport e con il calcio perché la vispesero che sabato ha giocato una doppia amichevole oggi ha conosciuto il girone 2021 2022 e questa sera conoscerà anche il suo calendario un argomento quest'ultimo di cui vi parleremo approfonditamente domani intanto vediamo questo servizio con immagini e interviste realizzate da giorgio ricci aspettando i calendari che la lega pro emanerà questa sera l'ora di pranzo del lunedì ha servito sul piatto dei tifosi della vispesero il nuovo girone della serie c girone b 2021 2022 quarto campionato consecutivo dei biancorossi nel professionismo è però un girone monco perché delle 20 squadre previste ne figurano soltanto 19 la ventesima è una x che verrà risolta domani assieme al ricorso del fano al collegio del garanzia del coni dopo l'esclusione dei granata dalle graduatorie dei ripescaggi se non sarà accettata la remissione del fano toccherà alla pistoiese completare un girone molto diverso dai precedenti infatti la vis non svalicherà più il po in direzione degli stadi del triveneto ma piuttosto farà un coast to coast verso il tirreno giocandosela con toscane laziali liguri eppure una traversata in sardegna che non avveniva dagli anni 90 ci sarà infatti l'olbia così come la ligure entella la laziale viterbese e tanta toscana ovvero montevarchi carrarese grosseto lucchese pontedera siena e forse la pistoiese tornano le abruzzesi pescare teramo rimane la umbra gubbio e un quartetto emiliano romagnolo composto da cesena imolese modena e reggiana aspettando il ricorso del fano oltre alla vis le marche saranno rappresentate dalla sola fermana e dalla neonata ancona matelica vis che intanto prosegue il suo lavoro sul campo dopo il ritiro di chianciano terme sabato mattina c'è stata infatti la prima apparizione al benelli con l'amichevole che ha visto i biancorossi battere 1 a 0 alla nazionale di san marino grazie al gol dell'argentino martin tonso ma per dare minutaggio l'intera rosa è stata anche prevista nello stesso pomeriggio di sabato una seconda amichevole vinta dalla vis 3 a 1 in trasferta con l'urbino grazie alle reti di gucci mercuri e accursi insomma fa piacere che anche in questa seconda amichevole ufficiale non si sia preso gol è importantissimo secondo me il fatto che i ragazzi hanno avuto un atteggiamento collaborativo si sono aiutati e siamo stati secondo me a lunghi tratti insomma padrone del campo abbiamo dominato il gioco sia nella fase di possesso che che quella di non possesso si sono sacrificati molti giocatori offensivi dietro abbiamo riscato rischiato praticamente niente quindi sono soddisfatto di questo aspetto perché perché non è banale aver fatto 70 minuti e poi non per ultimo il fatto che comunque dai non abbiamo avuto problemi non si sia fatto male a nessuno quindi siamo siamo soddisfatti il risultato poi una conseguenza non ci serve oggi però comunque fa piacere l'identità deve essere basata sui principi quindi una squadra aggressiva a me piace pensare una squadra organizzata che ha equilibrio indipendentemente dal sistema di gioco poi dopo l'obiettivo è quello nel insomma nel periodo precampionato di trovare delle alternative che in futuro ci serviranno dobbiamo essere più propositivi dobbiamo portare più giocatori in aria dobbiamo pensare che queste partite ci servono per capire dove migliorare io penso sempre che se la palla ce l'hai tu gli altri difficile che ti fanno male quindi preferisco tenere la palla lontana dalla nostra porta e poi trovare le soluzioni verticali che invece ci fanno ci fanno fare gol e si conclude dunque col calcio e con la vispesero questa nostra edizione del telegiornale prima di salutarci però vi ricordiamo la nostra prima serata che alle 21 e 15 vi propone una nuova puntata della tv dei viaggi questa sera dedicata alla grecia ed è davvero tutto per questa sera da parte mia e di tutta la redazione di rossini tv vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di rossini tv